Salve a tutti, siamo qua all'Unione Notizie. Premi in te la prima e buona notizia. Milano, da reality al tormentone estivo, Francesca Cipriani ha scelto di diventare cantante. L'ex Giffina Pupa è ultimamente ospite al grande hotel Cambretti su Canale 5, ha infatti usato i suoi account social, Twitter e Facebook per annunciare l'imminente uscita della sua prima fatica discografica. Milonga, nuova, tra foto con Asshak, che chiappe Asshak di tormentone che la ritraggono sul set o in sala in sessione. Francesca ha postato anche, che purtroppo stanno andando dei lavori e ci sentono sti rumori. Francesca ha spostato anche un video che la vede in abbigliamento sexy mentre la prossima etica estiva. E niente, a mio piano è pure cantante, oltre che abbia anche un bel fisico, tanto che infatti ti vede pure, insomma, posta un video dove vedranno sicuramente le sue belle forme. Questa è una notizia, se c'è qualcosa che vuole commentare qua una persona. Ma io penso che... vuoi che è il suo rielo? Io non posso parlare, ma stai sfureggiando! No, vabbè, niente. Questa è una notizia, l'inizio la posso.